ciao a tutti quanti sono estremamente contenta qui su Now, l'ordinary workout di stare qui con una dottoressa nutrizionista Maria Chiara Anelli allora domandissimo ci puoi spiegare te il tuo lavoro perché siccome non stiamo parlando di un semplice nutrizionista con tutto rispetto a tutti i nutrizionisti del mondo ma andiamo a spiegare chi ci abbiamo di fronte così i nostri amici possono capire al meglio la tua expertise ok allora ciao a tutti io sono farmacista biologa nutrizionista e specialista in scienza dell'alimentazione questo diciamo porta il mio lavoro ad avere un approccio che sia oltre che ovviamente nutrizionale anche medico al paziente nel senso che laddove la persona può avere una patologia o delle esigenze specifiche o magari relative all'allenamento chiaramente l'approccio tra nutrizione integrazione diventa più completo questo ovviamente senza nulla togliere ha un approccio nutrizionale il quale ha come principale elemento finale non tanto quello di prescrivere una dieta che si fa parte del nostro tipo di lavoro ma quello di portare la persona alla la capacità di autogestire la propria alimentazione in relazione alle proprie esigenze quindi ben lungi dal consegnare il foglietto con il piano alimentare da seguire giorno dopo giorno ma impartire alla persona le conoscenze necessarie per poi andare con le sue gambe si questa è una cosa molto importante perché questo piattaforma ti daremo i consigli però la verità che deve essere o dovrebbe diventare una stile di vita duro duro ok da portare da oggi e poi perché purtroppo la famosa dieta io sono veramente contraria alla dieta perché le diete di solito ha una fine e quando arriviamo a quella fine la gente non che cosa succede cioè ti sogni quel fine cioè comincio a fare l'elenco di tutti i cibi che ti sei bravissimo diciamo proibito per la durata della dieta e poi che cosa succede alla fine della dieta ti rimetti tutto con interessi no ciao io sono gil cooper e se voi in questi anni vi siete trovate bene con me su youtube adesso potete trovare bene con me tutti i giorni su now now and ordinary workout il punto gil cooper punto IT la mia online palestra virtuale dove io vi alleno tutti i giorni vi alleno con una piattaforma multidisciplinare vuol dire andiamo dal trampolino a corpo libero al stretching al bullet training che è high intensity interval training andiamo a bruciare calorie tonificare e anche meditare perché veramente è una piattaforma intenso complesso e dedicato a oltre 50 clip al mese proprio per aiutarvi avere sempre un flusso di informazioni nuovo così se vi siete trovate bene in questi anni con me su youtube adesso potete avermi tutti i giorni dicendovi per filo per segno dovete che cosa dovete fare da principiante intermedio avanzato su now punto gil cooper punto IT spero di rivedervi abbiamo due app uno per android e uno per apple e tu potete fare streaming anche sulla vostra televisore ok così vi aspetto su now e buona giornata altro problema dottoressa mi dà la dieta di mantenimento no non c'è nessuna dieta di mantenimento il mantenimento è quello che tu hai imparato fino adesso e che riesci a mantenere per tutta la vita allora io sono stranamente contenta perché la volevo presentare sta qui con noi qui su now e abbiamo la possibilità non soltanto di chiederla tantissimi consigli con quelli proprio quelli di base non di base anche di nicchia volendo però c'è anche un'altra opportunità qui su now potrete avere anche delle appuntamenti ok a pagamento perché è a pagamento lei è una professionista esattamente come stessi andando in studio da lei però qui sul sito avreste anche la possibilità di avere piani più specifici più personalizzati anche su diversi livelli ci puoi spiegare come sarà ci abbiamo due tipologie di di offerta da sì assolutamente innanzitutto un piano alimentare deve necessariamente essere personalizzato nel senso che non è possibile prescindere da indicazioni relative alla singolarità della persona questo è tutto è il cuore ognuno di noi è unico e irripetibile quindi la mia dieta non sarà mai uguale a quella di una persona che è alta come me alla mia età fa il mio stesso tipo di allenamento perché comunque è un'altra persona quindi sicuramente non si può prescindere da questo questa singolarità potrà essere fornita o tramite un questionario dove saranno rivolte delle domande molto specifiche relative non solo allo stile di vita a ovviamente i parametri antropometrisi quindi altezza peso eccetera alla frequenza alla tipologia di allenamento che speriamo quasi tutti i giorni speriamo esattamente ma anche e soprattutto ai gusti della persona io non ti posso dare le cose migliori dal punto di vista di vista nutrizionale se tanto poi non ti piacciono per niente le mangi allora merluzzo lesso mattina pranzo cena come lecca lecca no a qualcuno piace quello è incredibile ma piace a me no per niente l'altra tipologia per chi invece vuole un approccio ancora più dedicato ancora più specifico è quello di un vero e proprio appuntamento online magari uno skype uno skype assolutamente in modo che vis a vi vi vedrete parlerete proprio fisicamente con la dottoressa esatto questo perché in questo modo si instaura un tipo di rapporto basato anche sulla comprensione sull'interazione umana e quindi ancora di più l'output poi si rivelerà del tutto cucito su misura sulla persona perché poi ricordate se siete magari principianti avete una tipologia diciamo nutrizionale diversa da una persona che si elena veramente ovviamente tutti i giorni che vogliono ottenere magari un risultato un po più agonistico anche se agonistico non lo è però una persona cioè così ognuno è singolare ognuno avrà la sua piano nutrizionale necessario e adesso qui su now diamo un applauso arrivata la dottoressa veniva Chiara Nelly e siamo super contenti ok ci vediamo alla prossima qui su now